Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Luciana Lettizzetto, l'attrice e comica racconta i dettagli dell'ultimo incontro con Maria De Filippi prima della scomparsa di Maurizio Costanzo Un'ondata infinita di affetto, quella che sta invadendo Maria De Filippi dal momento dell'annuncio della scomparsa di Maurizio Costanzo. Personaggi famosi e non si sono stretti attorno alla famiglia del celebre giornalista e a lei, la donna che è stata al suo fianco per 35 anni Tra questi anche lei, Luciana Lettizzetto, che con Maria De Filippi ha un rapporto speciale, che va oltre le telecamere La comica torinese, nel corso del suo programma su radio DJ La Bomba, ha ricordato la grandezza di Maurizio Costanzo, rivelando però anche alcuni dettagli sull'ultimo incontro con Maria Incontro avvenuto in occasione delle registrazioni di puntata di C'è posta per te, in cui la Lettizzetto è stata ospite, come ormai ogni anno, e protagonista di un divertente siparietto In radio, Luciana ha raccontato di aver notato qualcosa di strano nella sua amica e collega, ma di aver ritenuto si trattasse di semplice stanchezza Solo ora ha realizzato che, probabilmente, c'era preoccupazione per le condizioni di salute di Costanzo In seguito, le sue parole nel dettaglio.Maria De Filippi prima della morte di Costanzo, la rivelazione di Luciana Lettizzetto Una morte che ha sconvolto tutti, quella di Maurizio Costanzo, uno di quelle figure che credevamo fossero immortali Una vera colonna della nostra TV, che ha cambiato per sempre il mondo della comunicazione, lasciando un segno che sarà perenne Un artista che intercettava i sentimenti, il modo, era molto vicino alla gente ed è stato uno di quelle che prendeva posizione, cosa che nell'ambiente, non fanno in tanti, come lo ha definito Luciana Lettizzetto, nella trasmissione di radio DJ La Bomba Trasmissione nel corso della quale la comica ha parlato anche dell'ultima volta che ha visto Maria De Filippi prima della tragica notizia, arrivata nella mattina di venerdì 24 febbraio È accaduto qualche settimana fa, in occasione della registrazione di una puntata di C'è posta per te. Come riporta fanpage.it, Luciana ha notato che la padrona di casa non appariva serena come al solito L'ho vista provata quando sono andata a Roma la settimana scorsa Era triste, magra, un po' lontana. Ho pensato che fosse stanca Ha dichiarato la comica, che ha però aggiunto di essere al corrente degli acciacchi di Costanzo Per il quale, Luciana Lettizzetto ha speso parole meravigliose, riconoscendo la sua grandezza, noi bestie della TV dobbiamo dire grazie perché sono passati tutti da lì, da quel palco Ha saputo raccontare, e lo faceva ancora adesso, meglio di chiunque altro i tempi, le mode Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me Arrivederci, al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti